Signori, notizia importantissima, se non proprio estremamente importante nell'ambito videoludico e sia cinematografico. A quanto pare sono in lavorazione per un film live action di Watch Dogs e a quanto pare Sophie Wilde sia ufficialmente unita al cast. Non sappiamo chi è il protagonista, ma questa notizia è stata ricevuta un paio di giorni fa, quindi va bene, ci sta. Un film su Watch Dogs 2, su Watch Dogs live action, non sarebbe male, però il problema è uno solo. Stanno proponendo sempre giochi, film su videogiochi, serie tv su videogiochi, che purtroppo non ci stanno facendo neanche vedere un cazzo di trailer. Quindi, la serie tv di God of War, annunciata, non si sa niente. La serie tv di Horizon, annunciata e non si sa niente. Il film su Watch Dogs, annunciato, non si sa niente. Until Dawn, il film, annunciato, non si sa niente. Ora, io spero che sia una notizia vera, speriamo di sì, ma a quanto pare credo di sì, però ancora non ci hanno detto un cazzo di nulla. Quindi, vi prego, fateci uscire qualche teaser, almeno un teaser trailer, per favore. Grazie. Grazie.